Fare la spesa durante l'emergenza coronavirus è diventata un'operazione difficoltosa. Tuttavia ricordatevi di acquistare prodotti agroalimentari toscani. A rivolgere questo appello ai cittadini è l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Stiamo vivendo un momento difficile. Il Covid-19 sta impattando sulla nostra vita e sui nostri comportamenti in maniera fuori dalle righe. L'invito che io voglio fare alle famiglie è quello intanto di stare attenti e di osservare tutte quelle che sono le disposizioni dei decreti, quindi di stare a casa. Però siccome dobbiamo mangiare, dobbiamo approvvigionarsi, un ulteriore invito voglio fare alle famiglie, alle persone che vanno nei negozi della grande distribuzione oppure nei negozi di vicinato a fare spesa. È un momento importante nel quale dando attenzione ai nostri comportamenti e quindi mangiando toscano, si può dare una risposta positiva anche ai nostri agricoltori. Noi spesso lo diciamo, vogliamo preservare le filiere a chilometri zero, vogliamo preservare la salubrità e la tracciabilità dei nostri prodotti. La grande qualità del prodotto agroalimentare toscano? Beh, facendo uno sforzo e quando si acquista, prestando grande attenzione a cosa si acquista, comprate toscano. Mangiare toscano è sicuramente un aspetto molto molto più importante e possiamo sostenere il nostro settore agroalimentare. Questa è la sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, è un messaggio di speranza, è un messaggio di grande importanza per questo settore.